Fermare la strage senza fine di lavoratori che purtroppo continua a colpire i cantieri attraverso un nuovo sistema di prevenzione basato su controlli intelligenti ma anche sulla riqualificazione delle aziende. È questo l'obiettivo del protocollo firmato dalla Giunta della Regione Lazio e dalle organizzazioni sindacali e datoriali, intitolato per un lavoro di qualità in edilizia. Tra le finalità più importanti la promozione della legalità nel settore e poi il contrasto al dumping contrattuale e al lavoro nero. La firma di un protocollo possiamo dire storico perché si parla di qualità del lavoro ma anche di sicurezza del lavoro e ce n'è particolarmente bisogno in questo momento, è così? Allora noi abbiamo realizzato questo protocollo cercando di prevenire, cioè di farlo prima che potessero mettersi in moto una serie di tanti cantieri a seguito dei finanziamenti pubblici europei e non solo, che cadono anche sulla nostra realtà. Il protocollo e le regole che sono in esso contenute, richiamate, alcune anche sperimentazioni innovative come il cosiddetto settimaniale di cantiere che riesce in qualche modo a vedere un po' la presenza dei lavoratori, quindi a registrarla e quindi ad avere la regolarità, sono dei segnali molto importanti. È un protocollo molto importante, aiuta, è uno degli strumenti per affrontare al meglio questa importante fase di investimenti che viviamo e che abbiamo davanti, che ha delle complicazioni e delle difficoltà ma deve costituire, può costituire anche, un'importante opportunità. Questo protocollo sicuramente è l'esempio che nel momento in cui le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le istituzioni dialogano, si confrontano, riescono a mettere su degli impianti davvero molto importanti, degli impianti di tutela. Il protocollo rimette al centro la persona, dà una governance partecipata anche alle organizzazioni sindacali che riescono da questo punto di vista ad essere attori sempre più attivi per monitorare le situazioni ma soprattutto per correggerle nel momento in cui ci sono chiaramente delle difficoltà. Quindi diamo un giudizio sicuramente molto positivo, è un protocollo unico da questo punto di vista. C'è una necessità di tenere sotto controllo quel settore che rappresenta il futuro, che rappresenta non solo i diritti dei lavoratori ma rappresenta anche la possibilità di poter avere lavori e cantieri dove dentro ci sono imprese strutturate che poi in qualche modo quei diritti e quelle regole le fanno rispettare.